Segretario, oggi parliamo di aggressioni, un fenomeno in crescita purtroppo che sappiamo sta portando sempre di più una crescita di numeri, una parabola ascendente. Qual è la situazione e qual è il punto di vista? Molto semplicemente purtroppo in campo sanitario e non solo si rispecchia il disgregamento di valori della società civile, cambiamento impeggio sociologico della media culturale e di educazione della popolazione. Per cercare di porre un argine a questo fenomeno gravissimo dell'aggressione ai sanitari come nel campo degli insegnanti, noi come sindacato abbiamo lanciato alcune proposte, idee. Una è una nuova legge attraverso una nostra iscritta che ha elaborato una serie di principi utili per farlo rientrare nella 81-08 e per fare specificamente delle miglioramenti normativi. E l'altro nell'immediato una proposta credo valida, quella di utilizzare agenzie di sicurezza sussidiaria le quali con i loro steward, chiamiamoli così, assicurano già da tempo in tutti i grossi conveni nei locali affollati la sicurezza a livello civile. Questo nei pronti soccorsi, nei distretti e negli ospedali, in modo da fermare malintenzionati o squilibrati. Sarebbero dei presidi fissi all'interno delle strutture oppure che possono eventualmente intervenire in caso di necessità? No, assolutamente. Secondo me questo che è un procedimento di tamponamento dell'emergenza deve avvenire con un presidio fisso. Facessero cooperative, legare gli appalti, tutto ciò che contrattualmente può porre in opera questo tipo di presidio che assicura i grandi, diciamo, una sciocchezza, i grandi eventi che non è tale, Vasco Rossi, 80.000 persone riescono a garantire la sicurezza, non vedo perché non possono farlo in un pronto soccorso, perché è una specificità diversa dalla vigilanza armata di carabinieri e di polizia. Hanno preparazione, cultura, formazione, il tutto in attesa di una legge che migliori, ad esempio la qualifica di pubblico ufficiale o la procedibilità d'ufficio della ASL che tuteli i suoi dipendenti più esposti, anziché lasciarli soli. Senta, le aggressioni sono un fenomeno in crescita, ci sono sempre state, sono in crescita perché se ne parla di più o perché c'è effettivamente un motivo per cui in questo ultimo anno in particolare sono cresciute così tanto? I motivi, secondo il mio parere, sono molti. Uno dei tanti è che i tagli dei pronti letto, i tagli della specialistica ambulatoriale del territorio precipita nei pronti soccorsi una marea di persone, l'aumento dei ticket, quindi crea ressa, crea come ben noto file di ore e quindi porta all'esasperazione. Ma un altro è il purtroppo pessimo livello ripeto di educazione e di cultura che si sta rapidamente disgregando con la disgregazione dei valori che porta soggetti più deboli di mente ad aggredire invece di ringraziare che li sta curando.